Buongiorno a tutti da Losi Milo, Mirante Case, questa mattina vi presentiamo l'ultima delle nostre esclusive, siamo nella zona Sant'Agnese vicinissimi al Policlinico, vendiamo un quarto piano senza ascensore, un appartamento bilocale di 55 metri, ottimo anche come investimento. Grazie a tutti. L'appartamento di 55 metri è composto da un bel ingresso, una zona giorno, un cucinotto, una camera matrimoniale e un bagno. Ripeto siamo al quarto piano senza ascensore, come pertenenza abbiamo una soffitta all'ultimo piano e una grande cantina ampia al piano terra. La richiesta economica per questo appartamento è di 78 mila euro, potete chiamarmi al 338-285-2222 oppure venire presso i nostri studi Mirante Case che si trovano in via Medaglia d'Oro 7 a Modena. Grazie, a presto, buona giornata.